lambacioni pugliesi facciamo le cipolline pugliesi ovvero i lambacioni in conserva sott'olio dopo aver sbucciato i lambacioni laviamoli laviamo e facciamo scolare mettiamo in una pentola aggiungiamo l'aceto tanto fino a ricoprire le cipolline accendiamo il fuoco e lasciamo sbollire mescoliamo di tanto in tanto lasciamo sobollire per circa due minuti spegniamo il fuoco scoliamo e lasciamo raffreddare per tutta la notte appena freddi metteteli nel vasetto aggiungete l'olio filo alla bordura così esattamente in questo modo e chiudete conservate in un luogo fresco e buio